Noi non ci siamo resi mai perché se fatto tutto quello forse che c'era da fare, più di così, penso che con l'aiuto di qualcuno, un po' di tutti. Hanno vinto loro quelli delle case popolari, come avevano scritto in uno striscione durante i due anni di battaglia, articoli di stampa, raccolta di firme. Il tetto in Amianto, di queste palazzine dove trovano alloggio circa 900 famiglie, sarà rimosso entro ottobre. La questione del quartiere di Via Malpighi ad Arezzo era nata due anni fa, quando la tempesta di acqua e vento sgretolò alcune lastre di Amianto e, oltre a danneggiare gli appartamenti, creò allarme per il pericolo inquinamento. Noi sono 40 anni che si sta qui, il tetto è stato messo anche qualche anno prima, spolvera, sarà un caso, ma dei tumori, le morti della gente in questi palazzi. Non ci sono soldi per rimuovere l'Amianto, si erano sentiti dire ai residenti in un primo momento. Adesso quei soldi sono arrivati e la decisione di Arezzo Casa, azienda partecipata dai comuni aretini, è stata quella di destinarli a questa attesa rimozione. Attualmente interveniamo sulle coperture, cioè provvediamo alla rimozione delle lastre ed Eternit, la sostituzione della copertura con pannelli appositi, fra l'altro anche di straordinaria qualità che garantiranno anche prestazioni migliori. Insieme alla copertura verrà rimossa l'argilla espansa, tutto avverrà senza venire a contatto con le persone perché i pannelli vengono trattati sul tetto, stivati, incellofanati e poi caricati e portati via. L'argilla espansa viene attraverso un tubo chiuso rimessa in un contenitore a terra, anche questa quando è pieno portato via. Quindi nella massima sicurezza. Abbiamo fatto anche un'assemblea con i residenti circa prima che iniziassero questa tipologia di lavori qui, da una parte per rassicurarli rispetto alle tante preoccupazioni che erano nati, dall'altra per rappresentare che in questa fase comunque ci saranno disagi perché arrivano i mezzi, arriva il materiale e quindi è normale che ci siano delle difficoltà. Siamo partiti da via Malpighi ma questo io spero che la petizione che oltre 4.000 cittadini hanno firmato del nostro comune abbia un seguito rispetto all'impegno che l'amministrazione comunale, il Consiglio comunale si è preso, cioè di fare un monitoraggio in tutta la città per vedere lo stato dell'arte, partendo dalle strutture pubbliche per fare un risienamento vero per quanto concerne l'amianto, perché sempre meno in quest'Italia si fa prevenzione. A noi non facciamo altro che ringraziare tutti coloro che si sono deparati per questa roba qua, ma dobbiamo ringraziare anche tutto il quartiere, i vicini che ci danno intorno, praticamente tutta questa zona che sicuramente era un interesse comune di tutti quanti. Grazie.